La domanda è questa, cos'è per lei la vocazione e come si fa a scoprire la propria vocazione? Per vocazione si dovrebbe intendere una voce che da dentro, da fuori, da non so dove ci ispira, qualcosa che entra in noi e che si manifesta. Il problema del talento, chi ha un talento normalmente lo sa perché sa fare già delle cose senza averle quasi imparate, mentre tante persone non sanno dov'è. Io penso che però una certa inclinazione, che dipende dalla propria mentalità, dal proprio corpo, comunque corrisponde sempre alla gioia di fare qualcosa. Quindi io penso che ciò che dà gioia, se uno insiste su quello, non pensa di non essere degno perché non è subito capace, ma se gli dà gioia, io penso che quella sia la chiamata che sentiamo o che traduciamo nel termine vocazione. Lei come ha scoperto la sua vocazione? Ma io sono caduto nella cisterna da piccolo, insomma, come Obelix, c'avevo il padre Enigmista e non si poteva non fare anagramme. Grazie, grazie.